Un caro saluto da Mario Giuliaci. Questa prima immagine rappresenta la posizione dell'anticiclone nordafricano alla quota di 5.500 metri nella giornata di domenica. L'area rossa è la lingua d'aria calda africana sospinta sull'Italia. Adesso a seguire le temperature massime previste intorno alle ore 14 di ogni giorno a partire da domenica 27. Le aree più scure sono temperature massime prossime a 30 gradi, quelle color viola chiaro sono tra i 30 e 32 gradi, così potrete osservare se sulla vostra città, sul vostro paese, le temperature massime saranno un po' caliente oppure valori normali. Comunque sarà un'ondata di caldo modesta, appena 2-3 gradi al di sopra della media prevista per questo periodo dell'anno. Vi saluto ancora. Grazie. 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 Grazie.